Il derby è dei tifosi, è un affare di famiglia. I calciatori e l'allenatore devono interpretare questo tipo di sentimento, al meglio delle nostre possibilità. Capire cosa significa e quindi saperlo interpretare. Potremmo portare in alto quello che è il sentimento della tua tifoseria. Altre cose sarebbero banali, retorica, non la voglio fare. Fino a cinque giorni fa eravamo morti, adesso come ci arriviamo? Bisogna distinguere tra calcio e pallone, sono due cose diverse. Il calcio non è per tutti, il pallone è per tanti o per quasi tutti. Non voglio cadere in questo tipo di argomentazione perché non mi interessa. Come ci arriviamo? Ci arriviamo. Eravamo morti una settimana fa quindi siamo sfavoriti perché siamo sempre morti. È una squadra che subisce poco, quadrata, che sta sempre in partita. Prevedo una gara complicata sul piano della contrapposizione. Il Genova è in salute, sta bene. Sarà una partita anche fisica, sarà una partita non solo tecnica. Ho grande rispetto per il Genova. Lo dissi anche alla vigilia del derby di andata, che la squadra aveva numeri, aveva valori. La Samp ha fatto dei risultati, ha alzato l'asticella, ha creato delle aspettative e nel momento in cui perdi qualche partita è come se tutto fosse sbagliato, è come se fosse un fallimento. Dipende da come le cose vengono lette, da quale angolazione, qual è l'ottica e poi il metro di giudizio. Io so quello che è il percorso della Samp, so cosa a mio avviso è in grado di fare. Siamo lì da tanti mesi e l'obiettivo è rimanerci e cercare di giocare per un risultato straordinario, straordinario e non ordinario, fino all'ultima partita di campionato. Siamo di più domani allo stadio, molte volte sono di più gli altri. Penso che se la Samp oggi è lì, ha giocarsi un obiettivo importante, lo deve anche all'inerzia, al calore, all'attaccamento che la nostra tifosia ha saputo creare insieme a questa squadra. Tante partite la squadra è stata in grado e capace di vincerle, soprattutto perché ha avuto il sostegno incondizionato, incessante dei nostri tifosi. Ci sono partite che non vinci perché si creano delle inerzi negative e il pubblico magari fischia, rumoreggia, eccetera, eccetera e non le vinci. Invece il nostro pubblico in questo senso ha saputo fare la differenza tante volte. Grazie. 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 Grazie.